La sfiducia è un tema che stiamo discutendo, attendiamo il rendiconto economico dell'evento, poi ci muoveremo di conseguenza. Marco Butti, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, a pochi giorni dalla chiusura della grande mostra dedicata a Sant'Elia, va dritto al sodo. Gli errori ci sono stati, soprattutto riguardo all'organizzazione e alla comunicazione, spiega. Non possiamo permetterci di andare avanti nel progetto triennale in queste condizioni. L'esposizione di Villa Olmo, terminata domenica, ha registrato risultati di gran lunga inferiori alle attese. L'assessore alla cultura di Palazzo Cernezzi, Luigi Cavadini, insieme con il suo staff, presentando la mostra, aveva ipotizzato 50.000 visitatori. Il totale dei miglietti staccati non arriva a 17.000. Guardando ai conti, il buco ammonterebbe a poco più di 200.000 euro. Butti ha presentato ieri sera in consiglio un emendamento in cui si chiede di stralciare dalla relazione previsionale programmatica alla frase «L'evento fa parte di una progettualità originale sul tema della città nuova che si svilupperà nell'arco di tre anni, sino al 2015, anno dell'Expo». Alla luce degli errori commessi, aggiunge il consigliere di Fratelli d'Italia, «è doveroso ripensare il progetto. L'Expo è un appuntamento a cui dobbiamo arrivare preparati». Sulla stessa lunghezza d'onda, il collega del PDL e nonché predecessore di Cavadini, Sergio Gaddi, «la sfiducia è inevitabile e con la presentazione del rendiconto si concretizzerà», ha detto, «davanti al disastro, assessore e sindaco fanno finta di nulla, non si può procedere con il progetto triennale». Più cauti i rappresentanti di Lega e Movimento 5 Stelle. «Non è ancora il momento di parlare di sfiducia, vogliamo rifletterci», chiarisce Alberto Mascetti, consigliere del Carroccio, «ma una cosa è certa, bisogna correggere quello che non è funzionato». «E' stato sottovalutato il marketing», dice il grillino Luca Ceruti. «Per ora non parliamo di sfiducia, attendiamo un rendiconto completo, conti alla mano, vedremo come muoverci». Se l'opposizione si prepara a dare battaglia, continuano ad arrivare bordate anche dalla maggioranza. «Ieri il consigliere del PD, Gioacchino Favara, ha chiesto che venga ridotto il compenso di 35.000 euro previsto per il curatore dell'esposizione, Marco De Michelis. Parecchi colleghi della maggioranza condividono la mia riflessione, ma non so se si esporranno in prima persona, come ho fatto io», spiega. «La mostra è stata gestita male, a mio avviso ci vuole una presa di responsabilità da parte dell'assessore e per il futuro», aggiunge Favara, «vogliamo essere presi in considerazione su tutto il progetto». Progetto che, conclude, deve essere condiviso da tutto il gruppo». «È importante guardare anche da vicino in questi progetti». «Bogi». Grazie a tutti.